Ma come si scrive un libro? Un paio di giorni fa mi sono imbattuto in una statistica assolutamente curiosa. Infatti ho letto che ci sono migliaia di italiani, esattamente l'86%, che desidera scrivere un libro. Soltanto l'1% di questi però arriva a farlo e una parte ancora più piccola poi se lo vede pubblicato. E questo cosa vuol dire? Che a me mi ha detto culo. A parte però tutte quante le belle tavole rotonde che potremmo fare sull'argomento, secondo me non esiste la ricetta del libro perfetto. E questo significa che quell'86% di italiani in realtà potrebbero davvero scriverlo un libro, proprio come ho fatto io. E così ho provato a riassumere quelle che secondo me sono le 5 mosse fondamentali per riuscire a farlo. Dopo la sigla. Ora, prima di tutto però forse è giusto per correttezza che io mi identifichi con questo 86% degli italiani. Non fosse altro perché anch'io come loro non ero mai andato avanti. Poi però è intervenuta una straordinaria congiuntura astrale, secondo cui Venere è stata inseguita da Giove in un walzer e si sono entrambi incastonati nella costellazione del Sagittario. Ma che cazzo sto dicendo? Vabbè. In realtà voleva essere un modo più colto per dire che è stata soltanto una fortunatissima coincidenza. Sì perché più o meno un anno fa suonavo con la mia band Progetto Noa a un concerto di beneficenza. Un attimo prima che cominciassimo, noi facciamo rock, l'organizzatore della serata ci ha chiesto un intervallo di musica un po' più soft durante la cena sociale. E là è nato il panico, anche perché in realtà avevamo sfoderato tutta l'artiglieria pesante, non avevamo nemmeno l'attrezzatura idonea per fare qualcosa di soft o da camera. E così, un po' per incoscienza, un po' forse anche perché ero brillo, perché in realtà quello di bere prima dei concerti è un vizio che non mi sono mai tolto, ho chiesto a Rodolfo, che è il mio chitarrista, e che tra l'altro vi invito a seguire sul suo canale Chitarra in Corso, di accompagnarmi mentre io avrei improvvisato recitando un sogno che avevo fatto qualche notte prima. Vabbè, io e Buddha nel cuore della notte che discutiamo su Kurt Cobain e Nirvana, vi lascio immaginare. E infatti io non so che cosa ne è stato di quel reading, come è andato, e sinceramente neppure lo rifarei. Però a fine serata era presente un editore, mi ferma, mi fa i complimenti e mi chiede se avevo altre storie. Ed è stato proprio lì che è nata la mia avventura da scrittore. Poi finita la serata, ritornato a casa, mi sono chiuso nello studio, che poi è questo. Vabbè, in realtà è anche tutta a casa mia. E mi sono chiesto, ma come cazzo si scrive un libro? Perché c'è gente che scrive soltanto di mattina o soltanto di pomeriggio, seguendo un consiglio di Gabriel Garcia Marquez. C'è gente che inizia dalla fine del libro. Oppure gente che in maniera più ortodossa comincia dall'inizio. C'è gente che scrive astraendosi completamente dal mondo circostante. Oppure c'è gente che scrive nel bordello più assoluto, come Hunter Thompson in Paura e disgusto a Las Vegas. Ma secondo me non c'è una regola fissa. Non c'è un metodo unico da seguire. Perché tutti quanti siamo assolutamente l'uno diverso dall'altra. Ma su una cosa però bisogna convenire. L'ha detta Marcel Proust, uno scrittore che in realtà mi accompagna da più di vent'anni. L'ha fatto nel settimo capitolo della sua opera omnia, Alla ricerca del tempo perduto. E ci dice che lo scrittore, nella preparazione del suo libro, deve utilizzare lo stesso spiegamento di forze come per un'offensiva. Sì perché in realtà il libro bisogna accettarlo come una regola, bisogna costruirlo come una chiesa, bisogna sopportarlo come una fatica, bisogna amarlo come un'amicizia, bisogna costruirlo come il mondo. Facile no? Che ci vuole? Ma proviamo a rendere tutto quanto più semplice e andiamo a quei cinque passi che ho fatto io per scrivere un libro. Primo, dobbiamo farci una domanda cattivissima. Perché scriviamo? Sembra una domanda semplice, ma vi assicuro che non lo è. Il blocco dello scrittore, oppure quella che è la sindrome della pagina bianca, è assolutamente sempre dietro l'angolo. A me per esempio è già successo con più di una canzone senza un motivo preciso e quindi poteva assolutamente capitarmi anche durante la scrittura del libro. Poi in realtà è anche tutta la storia della mia vita le cose lasciate a metà. Perciò chiedersi perché scrivo è un gancio che ci serve per tornare a quel momento esatto in cui abbiamo deciso di iniziare a scrivere. E non valgono le prime risposte che ci vengono in mente, che sono anche quelle più superficiali, quelle che in realtà non ci servirebbero per continuare a scrivere. Come è sempre stata la mia passione, perché voglio diventare famoso, perché voglio diventare ricco. Dai, non variamo. Sono tutte quante risposte inutili, non ci servono a niente e di sicuro non ci servono per andare avanti. Seconda mossa. Che cosa vuoi dire? Questa in realtà è una domanda che vi giro ma che mi ha fatto direttamente l'epiconere d'editorial. Forse ispirandosi ad Orwell quando si chiedeva cosa voleva dire, in quale forma era più giusto dirlo, se potevo utilizzare un'immagine diversa o se poteva dirlo in maniera più breve. Ed effettivamente non si può scrivere un libro senza avere idea di quello che vogliamo comunicare. Perché senza un messaggio chiaro la trama del nostro libro sarebbe confusa, sarebbe disconnessa, magari anche borderline. Certo io eviterei di provare a dimostrare che la terra è piatta, ma il libro è nostro. Rispondiamo soltanto a noi stessi del messaggio che vogliamo comunicare. Non è questo il momento per lasciarsi condizionare dal giudizio di chi ci leggerà dopo. Terza mossa, in che modo? E qui entriamo in un argomento squisitamente tecnico, cioè in quale genere letterario vogliamo scrivere il nostro libro. Può essere un romanzo, magari distopico, può essere una biografia, può essere un giallo, un thriller, oppure un fantasy. E scegliere il genere letterario è fondamentale per comunicare al meglio quello che è il nostro messaggio. E qua c'è poco da fare i gradassi, gli spocchiosi o peggio ancora i fighetti. Quindi eliminiamo quelle frasi del tipo Il mio libro andrà oltre ogni genere e supererà tutti gli stereotipi dettati alle etichette. Vogliamo fare gli scrittori? Allora un pizzico di umiltà. Io per esempio ho utilizzato il genere mainstream, che poi in italiano sarebbe la narrativa generale, che è anche la forma più giusta per il mio pamflet. Quarto, e questo è un punto fondamentale, darsi un ritmo di scrittura. Sì perché, ho toccato il microfono, ho fatto un danno, sì perché soprattutto per chi ha le prime armi, non ha l'esperienza dello scrittore navigato, il rischio di perdersi è sempre là, tanto poi scrivo domani. E invece no, serve una regola, assolutamente una regola militare. E lo so, detto da me che alle regole non sono propriamente incline fa un certo effetto, però vi assicuro che servono. Che poi le regole non è che bisogna farcele piacere per forza. Diciamoci la verità, se una cosa fa schifo, fa schifo. Però, per conviverci con le regole, basta soltanto pensare alla soddisfazione che proveremo una volta che abbiamo raggiunto il traguardo. E qui ognuno si dà il ritmo che crede più opportuno e più adatto alla propria quotidianità. Si può decidere di scrivere mezz'ora al giorno, piuttosto che un'ora, tutto quanto il pomeriggio. Certo, magari posso consigliare di evitare le distrazioni, quindi chiudiamo Facebook e chiudiamo Whatsapp, ma ognuno sceglie per sé. Io personalmente ho scelto un altro tipo di ritmo. Una volta quando giocavo a tennis, c'avevo un preparatore atletico che mi diceva sempre devi correre 10 km, non un'ora. Ma sei matto. E lui, uguale al sergente Hartman in full metal jacket, continuava e diceva 10 km e smetti quando li hai percorsi tutti. Dai, qualche partita l'ho vinta anche grazie a lui, lo devo ammettere. E questo è il motivo per cui le regole servono. E a noi che vogliamo fare gli iscrittori, servono e come. Perciò mi sono imposto di scrivere 500 parole al giorno, che poi tradotte in Times, New Rome, Font, 12 sono più o meno 3 pagine. Avrei potuto anche darmi un obiettivo più alto, però ho preferito non sforare per evitare di trovarmi degli alibi il giorno successivo. E poi, per finire, quinto punto, cercare sempre l'attenzione. Che non deve essere per forza adrenalina, se non stiamo scrivendo un thriller oppure un giallo. La ricerca della tensione, quindi, è quella cosa che ci deve spingere a restare sempre sul pezzo e a non abbandonarci alle divagazioni, tipo i canti delle sirene che facevano uscire di senno i marinai tra Lipari e Vulcano. In realtà la tensione, tradotta dalla parte del lettore, deve essere quella cosa che deve spingerli a dire, dai, leggo ancora un'altra pagina e poi smetto. E se riusciamo in una cosa del genere, abbiamo fatto centro. Quindi, per finire, avrei in realtà potuto elencare tantissime regole di scrittura, tutte tratte da manuali di autori immensi, da Stephen King a Italo Calvino e tanti altri in mezzo. E potremmo imparare anche tantissime regole di scrittura creativa. Ma per me il romanzo, così come qualsiasi altra forma d'arte, in sé è libero e non risponde né a regole né a quello che ci viene insegnato a scuola. E infatti, Monse Mogan, che nasce medico e muro scrittore, ci rivela che esistono soltanto terre regole per scrivere un bestseller. Sfortunatamente però non le conosce nessuno. Ora non voglio dire che tutti quanti possiamo vincere il prossimo premio strega, ma in assoluto sono convinto che tutti quanti possiamo davvero scrivere. E a questo proposito mi ha fatto riflettere uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Psychology of Music, in cui in una scuola di Tokyo, esattamente la scuola di musica Iki Onkai, se non sbaglio si chiama, una psicologa ha in realtà sfatato la leggenda dell'orecchio assoluto di Mozart. Ha provato cioè che su 24 bambini opportunamente stimolati dai 2 ai 6 anni, tutti quanti loro hanno sviluppato l'orecchio assoluto. Ed era una cosa che invece fino al 2014 si considerava ancora che fosse un dono che avesse una sola persona ogni 10.000. Questo significa che tutti quanti noi, se riusciamo a trovare il modo per sviluppare, per stimolare quella parte che ci rende felici, siamo capaci di scrivere un libro, di scrivere una canzone e di fare in realtà tutto ciò che vogliamo. Siamo arrivati alla fine anche stavolta, anche se forse ho tirato lungo, però prima di invitarvi a continuare a farmi compagnia in questo salotto più o meno una volta a settimana per farci quattro chiacchiere, volevo farvi una confidenza che poi a me è servita tanto per scrivere questo libro. Ho sempre utilizzato lo stesso posto per scrivere, che poi è questo, è un quaderno in cui ho cominciato a scrivere e a disegnare tutto quello che volevo dire prima poi di imbastirlo nella trama di quello che è il libro, Cartesio ti odio iperbolicamente. E l'ho fatto perché volevo sentire l'odore dell'inchiostro e lo scrocchiare delle pagine. Steve Jobs diceva che ogni sogno a cui rinunci è un pezzo del tuo futuro che se ne va. E io volevo fare lo scrittore e volevo una penna e che cazzo. Ciao. Ciao. Ciao.